Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono MatentiRot e oggi siamo con Blade Power Supreme Allora, facciamo custom 4, parliamo un po' più in voce bassa Allora, 7, 6, 5, 4, 4, si, sempre, si, uccidono Allora, vai ragazzi, sempre però, anche se parliamo come se stessimo dormendo, sempre l'attivi, attivi sempre Allora, adesso c'è Blade Power che fa le cazzate, con l'exo, quello che cazzo si chiama Beh, abbiamo spappolato una persona Andiamo ora di qua Due uccisioni Bella, io ho 0 perché non li trovo Improvviso si nascondono, eccolo qua, uno, killato No, dove sta un altro? Dove siete? Dove mi nascondi? Ah, beh, vai Ora siamo al terzo posto Cioè, tranquilli Terzo posto, vita Ok, camperiamo di qua No, no, no Ole Ole Bene Ole, c'è un idiota di qua Eh, sì, che mi ha ucciso con l'idiota Bellissimo Mi ha ucciso pure E dico che è idiota Oh, ah, ecco di qui Tivo che stavo appunto cercando per uccidere Ole, stavi qui No Stavo al quarto posto, dai Cioè, io e Gupaz Vai Terzo posto, dai A meno è terzo E secondo è primo, va Non voglio arrivare a quarto posto che non mi piace Bene Si deve cambiare Eh, sì Perché sa da cagna Perché sa da cagna Beh Allora Per chi Non sa che cosa ho detto in questo momento Perché ho detto Perché si deve cambiare Lo ho spiegato appena io prima Però va bene Devono imparare Mava fangula Precisamente Mava fangula Quando si killano C'è una roccia C'è una roccia C'è una roccia Va bene Tanto lo dicono tutti Youtuber Ma fangula Quindi me lo posso permettere Perché Il napoletano Non so perché Sta andando di moda Va All'improvviso Tutti i youtuber Tutti i youtuber Si mettono a parlare napoletano Quindi è una cosa favorevole Per me Guarda Youtuber più famosi Ovviamente Quelli da più Cazzuti di noi Ok Sì Appunto Stephanie Allora Luke Che in questi giorni Sto seguendo di più Va bene Pensiamo a noi In questo momento Ora usiamo il Black Cell Va bene Sempre il Menor Che chi è Che bombardamenti Di tutto La morte La vita Tempest E moriamo Ah ok Non ce l'hanno levata Strano Oh lì C'è qualcuna Voglio accidervi tutti Ok Uno E' morto Su Che ci vuole Dai E' solo una piccola kill Non è mica Non fa male Eh no Fa bene a noi E' logico Cioè Mica vi fa male No La kill Pure quando me la fanno a me Vabbè Fa un po' di dolore Si Quel pizzichino Eh Quel pizzichino Un cazzo E' utile che vi mettete Tra poco Cioè Tra un bel povero Vabbè Tra poco Viene natale Diciamo Tra poco Viene natale Tanto Purtroppo E' finita E' finita L'estate No E tra l'altro In inverno Ragazzi Voglio avvisare Che uscirà un video Al giorno Non 70 al giorno A massimo Due video al giorno Perché Va bene Anche perché C'è lo studio Quindi C'è capite No Blade Power Eh Ah certo Cioè Tanto siamo Pure nella stessa classe Blade Mi immaginate Che bordello Ah Bordello Kill Mamma mia Secondo posto Quante kg 11 Va bene Classico 11 Kill 11 Kill E' un classico Poi facci caso Ogni volta Che metto Per becco Ho fatto solamente Ho fatto solamente Un assist Benissimo Perfetta Vai Così Vai Benissimo 12 Kill Ah Tu hai fatto i 13 Complimenti C'è Blade Power Aia Fa male E se io mi scateno Vai Pure io Devo scatenare Porca puttana Vabbè Prima di tutto Possiamo superare il primo Perché stanno C'erano 25 Kill No Madonna Oh ci stanno buttando Un sacco di granate Oh Scusa Oddio Vedo Vedo L'idioto No 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 Non ho salvato Allora benissimo Stavamo perdendo Stavamo perdendo No Ma devo fare L'ultimo Kill Dai Ci riusciamo Voglio fare io Dai Tutti la vogliono fare L'ultima Kill Va bene Non l'ha fatta Nessuno dei due Cioè Scontenti Tra i due litiganti Il terzo code Il terzo code Guardate lì Stai estendo addietro Wow Che Ha fatto volare A quello Eccomi lì Al terzo Bella Ma siamo Secondo Ma che Siamo dei cloni Tutti e tre Eh sì Che bello Fabulous Fabulous Allora ragazzi Per questo episodio È tutto Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Di Call of Duty Black Ops 3 Un abbraccio A maternità La volta Boo